Entro 90 giorni si saprà ufficialmente il risultato dell'autopsia sul corpo di Anna Maria Tabellione, eseguita ieri pomeriggio nell'ospedale di Termoli. Il medico legale incaricato dalla procura di Larino, titolare delle indagini sul ritrovamento del corpo della donna, si è preso tre mesi di tempo, ma le prime indiscrezioni sembrerebbero escludere segni di violenza sul corpo, cosa peraltro già percepita durante la prima ricognizione cadaverica. Anna Maria Tabellione, sempre stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe essere morta per annegamento, cosa che avvalorerebbe l'ipotesi di un allontanamento volontario dalle tragiche conseguenze. Alcuni interrogativi però cozzano con questa prima ricostruzione. Nella macchina della donna, la Clio rossa ritrovata ieri sul lungomare Matteotti di Pescara, non ci sarebbero effetti personali, niente borsa né altri oggetti e neppure un biglietto di addio. L'auto comunque sarà oggetto di ulteriori accertamenti nel deposito giudiziale, dove è custodita a disposizione dei magistrati e dei carabinieri pescaresi. Non si trova nemmeno il cellulare di Anna Maria Tabellione, muto dalla notte della scomparsa. La donna, sposata e madre di due figli, la sera di venerdì avrebbe avuto una discussione con il marito, che è stato ascoltato dagli inquirenti adriatici, titolari del secondo fascicolo, quello sulla scomparsa. Si cerca di ricostruire il percorso della donna e le sue ultime ore fino al ritrovamento avvenuto martedì pomeriggio a Termoli. A questo proposito bisognerà capire se le tante telecamere della zona portuale di Pescara abbiano ripreso qualcosa e, dall'esame autoptico, a che periodo risale la morte. Elemento questo fondamentale perché Anna Maria Tabellione, quando è stata trovata, era perfettamente vestita nonostante il mare in burrasca di questi ultimi giorni.